Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense. Oggi entra nel vivo a Ferrara il calendario con gli eventi per celebrare il giorno del ricordo. Nel pomeriggio in municipio ci sarà il tradizionale incontro degli esuli, striani, fiumani e dalmati e della cittadinanza con il prefetto di Ferrara Camponaro e le autorità cittadine. Poi naturalmente diversi gli eventi che si tirano un po' per tutto il mese di febbraio sino agli inizi di marzo, un calendario che si può trovare anche sul sito del comune di ferrara cronacocomune.it, però sentiamo il significato di questa giornata direttamente da Antonella Guarnieri che è la responsabile del Museo della Resistenza e del Risorgimento di Ferrara. Sentiamo. Quello che accade nell'Istria è una storia che ha radici lontane. Purtroppo le foibe noi le conosciamo per questo episodio drammatico post bellico, post scontro fra locali titini e italiani o ex fascisti oppure ritenuti magari a torto ex fascisti e per questo appunto sacrificati in quella situazione. È una radice antica perché purtroppo anche da molto prima capitava che negli scontri politici in quella zona le foibe venissero usate per quella terribile prassi. Quindi dobbiamo comprendere tutto questo e inserirlo anche nella nostra storia italiana. Siamo stati tante cose, è questo nei secoli, siamo stati un paese molto diviso, poi finalmente oggi siamo un paese unito, cerchiamo di continuare adesso. Ed entra nel vivo intanto la campagna elettorale in città ma anche in tutta Emilia e Romagna dei candidati che si confrontano tra di loro non solo sui programmi nazionali ma anche sulle proposte in sede locale. Tanti gli appuntamenti in questi giorni noi ve li continueremo a dare nelle varie edizioni del TV giornale. Intanto c'è quello dei Noi con l'Italia, i due candidati Raffaello Vignali ed Enrico Zanetti terranno appunto un incontro pubblico per spiegare agli elettori ferraresi il loro programma politico incentrato sulla centralità della persona, della famiglia e dell'impresa. L'incontro è fissato per martedì 13 febbraio alle ore 18.30 all'hotel Carlton. Noi con l'Italia rappresenta la quarta gamba del centrodestra che fa riferimento all'ex ministro Raffaele Fitto e da come coordinatore nazionale Maurizio Lupi. Raffaello Vignali è stato componente della commissione di attività produttive ed Enrico Zanetti è stato vice ministro dell'economia e componente della commissione parlamentare di inchiesta sulle banche. Alan Fabri, capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale, sviluppa anche il proprio programma politico, le proposte della Lega per Ferrara, dice sulla sicurezza e infrastrutture e rilancio dell'economia. Sentiamo. Dove sono gli investimenti per far ripartire l'economia? Dove sono i piani strategici per rilanciare un territorio ferito dal sisma e le infrastrutture necessarie alle aziende? Dove le idee per ripristinare la sicurezza? A Ferrara, come nel resto del paese, al PD è mancata totalmente la visione politica. Alan Fabri, ex sindaco di Bondeno e capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale, sferra un duro attacco al Partito Democratico. Interviene in ritardo sulla sicurezza, dice Fabri. Sono mancati investimenti per il rilancio dell'economia. Il lavoro è precario a causa del Jobs Act e famiglie e imprese sono vessate da una tassazione troppo elevata. Non manca, nella nota diffusa da Alan Fabri, una riflessione sugli effetti dei crack bancari, che hanno danneggiato tanti risparmiatori, molti dei quali piccoli investitori che hanno creduto nella cassa di risparmio di Ferrara. Franceschini, scrive Alan Fabri, cita il fondo per il risparmio tradito come la soluzione del problema, ma quel fondo è stato istituito grazie alle incessanti pressioni della Lega. In conclusione, la Lega propone un cambiamento vero per l'intero paese e per Ferrara, questa la tesi di Alan Fabri. Ripristinare la sicurezza, non in emergenza, ma con interventi pianificati, garantendo in città il controllo del territorio e a livello nazionale la certezza della pena. Rilanciare l'economia con una rivoluzione fiscale che parte dalla flat tax. E infine, sostenere la famiglia con interventi mirati e garantendo risposte concrete alle esigenze reali dei cittadini. Intanto da Fratelli d'Italia vengono critiche al rinnovo del contratto di lavoro degli insegnanti. Ancora una volta il governo targato PD offre una mancetta elettorale a pochi giorni dalle elezioni, scrive Brunella Mainardi, candidata al Senato nella lista di Fratelli d'Italia nel Collegio Emilia. Il rinnovo annunciato in pompa magna come un risultato straordinario, dice Mainardi, si rivela però essere ancora una volta tanto fumo e poco arrosto. Dopo anni di blocco viene concesso un aumento salariale variabile tra gli 80 e i 125 euro lordi, con il tetto massimo riservato ai soli ricercatori e tecnologi. Ora ci spostiamo a Bologna sempre con la politica. Marco Rizzo nella città felsinea per incontrare i cittadini e i lavoratori e spiegare il proprio programma elettorale. Sentiamo. Marco Rizzo qui a Bologna per presentare il programma del Partito Comunista. Quali sono i punti salienti che venite a presentare qua? Partiamo da Bologna, una città importante dell'Emilia Romagna, una delle regioni rosse, torniamo con la falce martello finalmente sulle schede dopo 12 anni, torna il Partito Comunista, un programma elettorale che non è la propaganda che sentite dire in questi giorni dai vari partiti, ma un programma di mobilitazione, di lotta. Noi siamo gli unici che diciamo che per fare alcune cose in questo paese è necessario rompere la gabbia europea, rompere i poteri che controllano il nostro paese, a partire dalla Banca Centrale Europea al Fondo Monetario Internazionale. Oggi l'Italia ha un pareggio di bilancio, ha un fiscal compact che impediscono qualunque politica economica. Basterebbe sentire quando ci sono alcune dinamiche economiche e questo governo è sempre in ginocchio a chiedere il parere di Bruxelles, il parere di Francoforte. Ma chi c'è a Bruxelles? L'Unione Europea. Chi c'è a Francoforte? La Banca Centrale Europea. Chi sono quelle persone? Draghi, la signora Lagarde? Chi li ha eletti? Perché contano più di un Presidente del Consiglio? Questa è la nostra critica. Tutto il resto è fuffa elettorale che non interessa a nessuno. La rottura di questa gabbia europea, come la definisce lei, non potrebbe portare anche dei problemi però? Certamente, se fosse solo l'Italia che esce dall'Unione Europea, che esce dall'Euro, i problemi ci sarebbero. Ma il nostro percorso, il nostro progetto, la nostra vicinanza con altri comunisti in tutte le altre parti d'Europa è di costruire un movimento che porti all'uscita dell'Unione Europea, alla costruzione di movimenti che rompano questa cosa non solo in Italia, è chiaro, in Italia, in Francia, in Germania, in Grecia. Cioè laddove il capitalismo sta mostrando il vero volto della crisi. La sua venuta a Bologna arriva all'indomani delle manifestazioni di Macerata. Qual è il suo pensiero? Il mio pensiero è che il fascismo può tornare e bisogna combatterlo, ma per combatterlo non si può stare dalla parte delle banche, non si può abbandonare le periferie, non si possono abbandonare i lavoratori e credo che i comunisti non è che tornano nelle periferie, noi ci siamo sempre stati. L'unico modo di battere il fascismo oggi è essere coerentemente anticapitalisti. Avete delle idee particolari per l'Emilia Romagna e per Bologna? Certamente tutte le zone cosiddette rosse, l'Emilia Romagna, Bologna, la Toscana, l'Umbria, sono state nella storia italiana delle realtà avanzate di sviluppo sociale, di sviluppo economico, ma da qualche anno a questa parte queste dinamiche sono assolutamente arretrate rispetto al mercato. Oggi il mercato la fa da padrone, anche il cooperativismo è tornato indietro. Oggi molte cooperative di fatto nascondono solo delle imprese vere e proprie dove i padroni la fanno davvero la padrone. Restiamo a Bologna perché ieri c'era anche l'ex sindacalista della FIOM, Giorgio Cremaschi, candidato per il potere al popolo. Sentiamo. Siete qui oggi a Bologna per presentare il vostro programma. Quali sono i punti principali? I punti principali sono cambiare la politica di questi ultimi vent'anni. È un punto solo. Poi si divide in molti punti perché sono vent'anni che la politica aiuta i ricchi, le banche, la finanza, le multinazionali e colpisce i poveri, gli sfruttati, lo Stato sociale. Il nostro programma è prima di tutto ripristinare i diritti del lavoro, rifare lo Stato sociale, la sanità pubblica, le pensioni pubbliche, il diritto al lavoro, l'istruzione pubblica. Sono vent'anni che tutta la politica, senza distinzioni, poi fa finta di litigare ma poi alla fine scelgono tutti le stesse cose, dice mercato, produttività, competitività. Noi diciamo Stato sociale, diritti, diritto al lavoro, quello che è scritto nella prima parte della nostra Costituzione. In questo siamo davvero diversi da tutti gli altri. Voglio ricordare che noi siamo alle elezioni perché nessun parlamentare ci ha dato la benedizione, noi non siamo stati benedetti da nessuno. Noi siamo qui perché 52.000 cittadini italiani in pochi giorni hanno firmato perché noi partecipassimo alle elezioni. Noi parliamo a nome del popolo sfruttato, del popolo oppresso, di quello che non ce la fa. Nel nostro popolo non c'è Marchionne, non c'è Farinetti, non ci sono le banche, non ci sono quelli che comandano oggi in Italia. Nel nostro popolo ci sono quelli che non contano niente e che pensano di continuare a non contare niente. Noi siamo qui a Bologna, io sono candidato qui a Bologna anche per testimoniare e per dire una cosa chiara. Il Partito Democratico che governa da tanti anni questa città non è quello che rappresenta, dice di voler essere. Il Partito Democratico oggi è il partito dei poteri forti, della finanza, delle banche e il partito del potere. Ieri avete partecipato anche come Potere del Popolo alle manifestazioni di Macerata. Certo, noi ieri eravamo, io credo senza voler esagerare, una parte bella grossa di questa manifestazione. Lo facciamo convinti perché noi non vogliamo che ritorni in qualsiasi forma il fascismo o il razzismo in questo paese. Però vogliamo dire che noi non siamo un antifascismo di palazzo. Noi sappiamo che il disagio sociale, il ritorno del fascismo, come sempre è avvenuto nella storia italiana ed europea, sono frutti di politiche economiche sbagliate. Quando si tolgono i diritti, quando si mettono i ticket per la sanità, quando le persone povere vengono oppresse per tutti i loro diritti, c'è il rischio che una cattiva propaganda, una propaganda feroce che gli dice che il nemico non è il ricco che sta in alto, ma il povero magari di pelle di colore diverso che sta in basso, ecco c'è il rischio di questo. Il fascismo è prodotto delle politiche economiche liberiste di austerità che si sono fatti tutti questi anni. Ora cambiamo decisamente argomento, ritorniamo a Ferrara perché oggi è il 12 febbraio della giornata mondiale dell'epilessia. Anche Ferrara ha organizzato per questa occasione diversi appuntamenti, tra questi alle 18 verrà illuminato il monumento del Savonarola di Viola, colore dell'epilessia, proprio per far uscire dall'ombra dei pregiudizi questa malattia alle persone che spesso la vivono in solitudine. L'epilessia è una patologia neurologica cronica tra le più diffuse al mondo, ma è anche la più invisibile, poco conosciuta e a volte persino da chi ne soffre, ossia l'1% della popolazione mondiale. Secondo le ultime stime in Emilia Romagna ci sono circa 22.000 persone con epilessia e sono attesi ogni anno dai 1.100 ai 2.100 nuovi casi. E ora ci occupiamo di San Valentino. L'Independent, uno dei quotidiani britannici più noti e autorevoli, nella propria edizione online, ha indicato 5 mete europee alternative per la festa degli ferrara. Lo scrive l'Independent, uno dei più importanti quotidiani britannici, in un servizio ripreso in Italia dalla testata online Huffington Post. Il servizio dell'Independent indica 5 mete, per così dire, alternative, meno battute dai grandi flussi turistici, da consigliare a chi cerca una destinazione romantica, ma anche ricca di arte, storie e suggestioni enogastronomiche. Quindi, dice il quotidiano, meglio Brugia di Amsterdam, meglio Bordeaux di Parigi, meglio Praga di Budapest, meglio Annecy di Venezia e meglio Ferrara di Firenze. Firenze, cool del Rinascimento, offre ottimi motivi per essere visitata, spiega l'Independent, perché offre arte, architettura e buon cibo. Una valida alternativa, però, più tranquilla, meno assediata dai turisti, prosegue il quotidiano britannico, è appunto Ferrara, spesso trascurata. Situata tra Venezia e Bologna, spiega l'Independent, è una città ricca di arte rinascimentale e sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Passeggiando per il centro della città, i turisti possono ammirare il Castello Estense e i palazzi che vantano affreschi di pregio ed esempi di arte rinascimentale. Non manca un breve excursus sulla cucina ferrarese e sui tanti ristoranti in cui si possono gustare le specialità tipiche della nostra terra. I quattro giorni in maschera della Ferrara del Rinascimento praticamente sono ormai in dirittura d'arrivo, il weekend si è appena concluso e, insomma, oggi proprio l'ultimo appuntamento in programma, però, insomma, un'iniziativa che, insomma, ha raggiunto dei buoni risultati. Vediamo. Il Carnevale degli Este, anche domenica mattina, ha offerto appuntamenti di grande interesse. Alle 11 ecco la sfilata del corteo di Ercole I d'Este, da piazza Castello allo scalone d'onore di Palazzo Ducale, in piazza municipale. Al termine del corteo, dallo scalone, si è data lettura dell'editto di chiusura del Carnevale degli Este. Poi, sempre in piazza municipale, ecco il torneo di Carnevale, sfida trafanti con scudo e randello. Spettacolo suggestivo in cui gli armati del Palio, bardati di tutto punto, hanno dato vita a combattimenti simulati, molto seguiti da ferraresi e turisti presenti in massa in centro storico. Il momento clou del Carnevale degli Este, tuttavia, si è svolto sabato pomeriggio. Alle 17.30, infatti, i cortei storici salutati dalle campane suonate dai campanari ferraresi sono entrati in piazza municipale, dove è stato letto l'editto di apertura del Carnevale, alla presenza virtuale, naturalmente, di Pellegrino Prisciani, celebre umanista e astronomo alla Corte degli Este, cui era dedicata questa edizione del Carnevale. Alle 18.15, lo spettacolo dei gruppi armati del Palio di Ferrara. Alle 18.30, la compagnia Lux Arcana ha presentato Belfagore con protagonista Il Fuoco. A concludere, il ricco programma del Carnevale degli Este, promosso e curato dall'ente Palio di Ferrara, con il patrocinio e la collaborazione dell'amministrazione comunale e di numerose istituzioni e associazioni cittadine. Lunedì, 12 febbraio, alle 16, gina Nalini-Montanari, che al Cinema San Benedetto terrà una conversazione su luci ed ombre del Carnevale rinascimentale estense, da Borso ad Alfonso II. Ferrara Imola alla scoperta di Palazzo della Volpe, grazie ad un restauro, dal soffitto tornano alla luce antiche decorazioni e uno stemma molto pregiato. Uno degli edifici più antichi di Imola, maltrattato nei secoli da degrado e abusi, riserva una scoperta inaspettata. Una volta, affrescata, databile tra il 1484 e il 1518, un'epoca insolita in un tessuto urbano come quello imolese che presenti in prevalenza testimonianze architettoniche settecentesche, tutto in 33 metri quadrati nel negozio di via Orsini 5, di proprietà della famiglia Mongardi, che avviando i lavori di ristrutturazione ha affidato al bisturi esperto di Loredana di Marzio i saggi stratigrafici, il descialbo e la scoperta di figure, disegni e uno stemma. Si tratta dello storico Palazzo della Volpe, ex albergo Il Cappello, dei riario Sforza, costruito su commissione del conte Girola Moriario, signore di Imola e sposo di Caterina Sforza, venduto poi alla famiglia della Volpe. Emozioni che la restauratrice della Fenice di Imola ha raccontato insieme a tante altre voci, fotografie a corredo e ritratti storici nel volume Restauri nel Palazzo della Volpe a Imola, ripristini e nuove scoperte, edito nella collana Nuove Carte. Cosa ci hanno restituito questi lavori? Ma sicuramente ci hanno ridonato una parte di storia di Imola antica, quasi dimenticata direi, visto che questo soffitto era stato completamente imbiancato e quindi tutte le decorazioni erano praticamente scomparse, il sistema compreso. Quindi oltre che elementi artistici e decorativi ci ha restituito veramente un pezzo di storia di Imola, a partire da Girola Moriario. Diciamo che i primi sondaggi che sono stati fatti per avviare le pratiche anche con la soprintendenza per l'autorizzazione a esecutare i lavori, hanno subito messo in evidenza che c'era qualcosa di molto interessante sotto, nonostante qualche lacuna che ce l'aspettavamo. e quindi già lì la curiosità è cominciata. Poi man mano che si è avanzata con la scopritura sì, le decorazioni sono emerse con lacune, alcune parti un po' più scolorite, però poi insomma sono state recuperate. Lo stemma è il fulcro della decorazione, però tutto ciò che gira attorno, a partire anche dai nastri, dai medaglioni, dalle iscrizioni delle lunette, riportano alla famiglia che si era formata con Girola Moriario e Caterina Sforza, che poi è simboleggiata dallo stemma che riporta gli emblemi di tutte e due le famiglie. Ci sono altri stemmi Sforza, ma non tutti sono stati fatti fare da Girola Moriario e Caterina Sforza, perché alcuni sono in palazzi che non erano di loro proprietà, ma che erano stati messi come riconoscimento all'autorità, anche alla bontà del signore della città, mentre questo essendo un palazzo Sforza è proprio fatto fare dai riari. Infatti poi anche tutta la decorazione all'interno di questa sala ha un suo perché, una sua logica anche simbolica, sempre riferita alla famiglia. Naturalmente vi rimando a questa sera, all'appuntamento con Lunedì Sport in diretta a partire dalle ore 20.45 con Alessandro Sovrani, naturalmente con tutti i suoi ospiti per capire un po' le ultime novità in casa Sfal in previsione della partita di domenica contro i Napoli. Grazie di essere stati con noi, arrivederci. Grazie a tutti.